L'esperienza che ho vissuto è stata positiva dal punto di vista proprio del gruppo, mi sono piaciute molto le dinamiche che si sono create, la leggerezza e la generatività che si è creata nel gruppo e le connessioni tra di noi. Mi sento molto leggera, molto aperta anche come visione, mi sento di poter guardare avanti con una mente molto più aperta. Allora ho deciso di partecipare perché ci sono state alcune parole quando mi sono informata su quello che fosse la teoria U, ho riconosciuto alcune parole chiave che mi hanno colpito, la generatività, la creazione, la visione e queste parole ero curiosa di capire come poterle applicare, come portare avanti questo progetto.